che è la linea del villagriere della presa che tiene che andare al mare gritando ahhh si la cara sin aliento poi va a salire perché non lo so possibile si va a agarrar il pesca si la cara si va a agarrar il pesca se convierte il pesca 2 e continuando si va a agarrar il pesca e non si vede una parte del pesca eeeh si 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 Sì, 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 sì.